Vi rubiamo solamente qualche secondo per comunicare che grazie alla direzione del locale, da martedì 27 settembre e tutti i martedì faremo la serata boogie, quindi vi aspettiamo perché ho visto tanti booghisti. Questo perché ormai la scuola del boogie boogie dell'Arizona è diventata una realtà, una realtà che quest'anno avremo la ciliegina, un valore aggiunto. La maestra Nadia Pellegata che verrà qua a insegnare insieme a me e tutto il suo meraviglioso staff, dagli assistenti, il gruppo farete boogie, gli allievi, il regista e quant'altro. Quindi prossima settimana avremo lezioni prova il martedì per un livello intermedio, quindi già chi balla dalle 8 e mezza alle 9 e mezza e giovedì avremo dei corsi di livello base dalle 8 e un quarto alle 9 e un quarto perché qui poi dalle 9 e mezza si inizia a ballare. Stasera vogliamo farvi vedere una piccola dimostrazione di quello che potete imparare a seguire i corsi di boogie, ma non tanto con noi, anche da altre parti, per me è importante, però la bellezza del boogie e di quante varianti ci possono essere. Quindi accogliamo con un applauso tutti gli allievi del gruppo farete boogie, forse entrate ragazzi. Sei solo il gruppo farete boogie, per me è Another Believe, come questa qua. Questo è il nome dell'Hazono, non tanto con noi, anche da altri paesi al genere che non abbiamoZero. Grazie. 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 Grazie.